Chi di voi c'era nel 2007? Chi di voi ha fatto figli nel 2000 e dopo? Nel 2007, quando sono venuta qui la prima volta, ho cantato una canzone che forse è una delle tre più speciali della mia carriera, della mia vita, non della mia carriera. E sono sicura che anche questa notte la persona alla quale l'ho dedicata l'ascolterà cantare e sa che è per lei. Queste note sono per lei. Ciao, nonna! Forse bastava respirare, solo respiro un po'. Vino a riprendersi ogni battito e non cercare l'attimo per andare via. Non andare via, perché non può essere abitudine di sempre senza te. Chi resta qui spera è impossibile? Invece no, non c'è più tempo per spiegare e chiedere se ti avevo dato amore. Io sono qui e avrei da dire ancora, ancora. che si spezzano tra i denti, le cose più importanti, quelle parole. che si spezzano tra i denti, le cose più importanti, le cose più importanti, le cose più importanti, le cose più importanti. per sempre assurdo di noi. E se manchi tu, io non so ripeterle, io non riesco a dire più. Invece no, tu fiovono i ricordi ed io farei di più. di ammettere che da Dio con me vorrei vorrei parlare ancora, ancora. Invece no, non ho che tempo per spiegare che avevo anch'io, io qualcosa da sperare davanti a me qualcosa da finire insieme a te se mi basta respirare solo respirare un po' insieme per voi che state piangendo e io so perché per voi va bene così, cantiamo forte lo sentiranno tutti quelli che vogliamo, tutti!